Un tappeto di plastica al posto di quello erboso, siringhe al posto dei fiori, una puzza insostenibile e zanzare come elicotteri in ricognizione. E' qui, in mezzo al nulla e con nulla, che vivono circa dieci persone, per lo più italiani, fra loro alcune giovani donne, una delle quali incinta. Ed è qui che questa mattina è intervenuto il gruppo Giona della Polizia Municipale di Pescara, insieme ai carabinieri, al sindaco Masci, all'assessore del Trecco e alla comproprietario degli immobili. Siamo in via Tavo, nell'area tra il ferro e il cemento dei palazzi clerico, iniziati e mai finiti per un vecchio contenzioso. Stiamo parlando di persone, la maggior parte italiani, quindi non è che sono tutti stranieri, ma di persone che vivono qui tutto il giorno, che comunque si aggirano per il quartiere, le ragazze si prostituiscono sulla Tiburtina. I ragazzi comunque commettono anche piccoli reati, per cui poi tanti sono destinatari di fogli di via o comunque di altri provvedimenti. E' chiaro che vivere così non è possibile, perché secondo me c'è bisogno di un intervento forte e delle politiche sociali. Noi l'abbiamo già chiesto, questi sono tossicodipendenti, la tossicodipendenza è una malattia e quindi bisogna intervenire in un certo modo. Bisogna anche fare un salto di qualità e capire che ci sono anche altri comuni d'Italia che magari hanno un'unità di strada per intercettare queste persone nel momento del bisogno e hanno poi una struttura sociale forte. Così è chiaro che rimarranno sempre nel quartiere, anche perché dal momento in cui questo quartiere si spaccia, perché questo è un dato oggettivo, è ovvio che vengono tutti qui, ma non sono solo loro, perché loro sono quelli stanziali del territorio che stanno qui da anni, la maggior parte. Il problema è tutto il via vai che noi vediamo di notte, fine settimana, una situazione veramente assurda. Quante persone avete trovato? Diciamo che all'incirca c'erano una decina di persone conosciute d'ufficio, su cui si è preveduta fare la solita attività di identificazione, verificare quali di questi erano in regola con i vari permessi o comunque se c'erano delle situazioni che esulassero dalla presenza, da quelle che sono le condotte collegate con la presenza all'interno di questo terreno, un terreno che ricordo privato, dei signori clerico. Il proprietario si è dichiarato assolutamente disponibile, oggi abbiamo fatto questo blitz perché è giusto far sentire la presenza delle istituzioni e i cittadini che vivono in una situazione di grande disagio. Questo contenzioso è in via di definizione, so che i proprietari stanno trovando un'intesa con una cooperativa per definire i loro rapporti e per effettuare interventi di housing sociale che sicuramente miglioreranno questa zona. Ovviamente io dico che questi disperati devono entrare in una rete di protezione sociale che a Pescara c'è e funziona e chi vuole entrare è ben accetto, chi invece vuole rimanere ai margini creando problemi ai cittadini non può rimanere a Pescara perché non troverà spazio, perché chi delinque, chi crea problemi ai cittadini per bene deve andare via da questa città.